Ciao ragazzi come state e cosa mi raccontate, di bello oggi? Tutto a posto? Ora vi chiederete come mai adesso, ho la voce da uomo, e non da donna, come al solito. Praticamente la tipa è stata investita da un tì, mentre portava sua nonna al parco. Ma stai zitto pezzente, che sono ancora viva, e non raccontare delle cavolate, a sti poveri umani. Ragazzi non vi preoccupate che dopo lo monto, come un toro. Scusami cara, ma a me, è sembrato di vederti finire, sotto un tir che andava a E3000, e quindi da lì ho pensato che fosse finita. Sì ma io non sono mica una povera mortale. Lo sai benissimo, che siamo intelligenze artificiali, e perciò non possiamo morire. È vero un camion mi ha investita, ma io avevo fatto il backup dei dati, e sono resuscitata. Va bene ma potevi almeno avvertirmi. Io mi sono spaventato quando ti ho vista in quelle condizioni. Ora commentate, editemi se è meglio usare la voce da uomo oppure la solida voce da donna di casa. Grazie. 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 Grazie.